Quali gli interventi di Acquanovara VCO per i comuni di Piedimulera e Pievevergonte? Pievevergonte ha una situazione critica ormai da anni che si trascina, abbiamo individuato la soluzione che è quella della costruzione del nuovo pozzo nel territorio del comune di Pievevergonte e quindi andrà a implementare sia la rete di Pievevergonte sia la rete di Piedimulera. Ci auguriamo così risolvendo in maniera definitiva i problemi che affliggono quella zona. I tempi? I tempi sono legati all'autorizzazione dell'Astle del Pozzo quindi noi dobbiamo fare per un anno i prelievi del campione ci auguriamo quindi di finito l'anno di campionamento con la necessaria autorizzazione di fare i lavori che però sono abbastanza brevi, il tutto per circa un 300 mila euro di investimento. Quali sono le problematiche che vengono segnalate da questi territori? Soprattutto il fatto di avere una elevata perdita perché comunque stiamo parlando di reti che hanno un'età media superiore ai 40 anni. Nel caso specifico poi di Pievevergonte c'è stata per il fatto della zona che è stata oggetto della bonifica c'è stato chiuso un pozzo e quindi questo ha mandato comunque in carenza l'approvvigionamento di tricolazione.